William Di Marco, conferenza stampa da parte di Identità Culturale Rosetana per valutare da vicino la situazione in merito alla pista ciclabile di Roseto degli Abruzzi ma anche quella di Colonia Spiaggia. Voi avete sottolineato come ci sono tante cose da sistemare soprattutto una su tutte, ovviamente quella riguardante i biscottoni. Sì, in realtà oggi abbiamo fatto vedere una serie di slide, una serie anche di foto legate dalla parte proprio sud di Roseto cioè quella vicino al porticciolo per arrivare fino a Colonia Spiaggia alla parte proprio nord di Colonia Spiaggia cioè prima di arrivare al ponte del Tordino. Quindi è una situazione di abbandono della pista ciclabile ma in alcuni tratti come abbiamo fatto vedere anche della pista del percorso pedonale. Quindi la nostra proposta è che Roseto deve necessariamente esternalizzare questi tipi di lavoro affinché questi lavori siano continuativi perché altrimenti non ne usciamo, non possono essere a spot. Ecco, voi avete sottolineato come non sia un bel biglietto da visita in vista ovviamente delle vacanze pasquali e soprattutto dell'inizio della stagione balneare. Certo, perché poi oltretutto parliamo di questa pista ciclabile che è sempre più centrale nelle scelte turistiche. Ripulire la zona sud, mettere il sistema per esempio anche di alcuni cessini che sono stati così tolti e divelti, vale anche per certi cartelli e certa segnaletica. Si capisce che chi percorre la pista ciclabile ha di fronte uno stato di abbandono. Se uno ha la cultura turistica, ha la cultura dell'accoglienza, allora tutte queste cose vengono messe in primis nella propria agenda. E poi ripeto, è un'agenda che deve essere rimodulata soprattutto con dei lavori esternalizzati per far sì che siano presenti questi lavori ogni giorno e non a spot.